bello a tutti ragazzi e benvenuti nel quinto episodio della vale col summer tortoreto eccoci qui ragazzi oggi siamo stiamo al quinto episodio quindi stiamo alla metà del tragitto ragazzi della vale col summer tortoreto diciamo tragitto perché ragazzi ho deciso di fare una cosa durerà fino all'undici luglio la vale col summer tortoreto siamo a metà questo è l'episodio diciamo della metà quindi ragazzi mi raccomando andatevi a vedere tutti anche i prossimi cinque che faremo è appena uscito appena uscito lo shorts del quarto episodio andatelo a vedere il quarto episodio anche lo shorts della vale col summer tortoreto ragazzi è appena uscito prima 10 secondi prima che caricassi un video che facessi questo video che iniziassi ragazzi ora caricherò uno shorts sulla serie A1 quindi l'LBA e ragazzi sarà una cosa che faremo con tutte le serie con tutte le serie tranne quelle del anzi potremmo farlo anche della serie A2 ma quello lo faremo dopo l'Eurolega dopo l'NBA penso perché non c'è quando andate in A2 forse sarà un po' più conosciutore al Sebastian Vieri quindi ragazzi ora parleremo un po' del canale come sempre ragazzi anche perché abbiamo raggiunto i 23 iscritti fra due iscritti ragazzi a 25 iscritti io vi faccio vedere una cosa che comprerò sul calcio comunque ragazzi ora faremo molti contenuti su diverse anche sul calcio si potrebbero fare dei contenuti che tanto non copierò l'Olo712 cioè farò la stessa cosa che ho fatto col basket nel canale mio però farò un'altra cosa che non ha fatto quindi cioè lui è bravissimo con gli indovinelli cioè fa tutti questi come vi ho detto l'altra volta ha guadagnato 13 commenti perché hanno fatto 700 visualizzazioni quindi ha fatto il video quello che ha fatto lui e quindi ragazzi ora faremo anche magari sul calcio penso perché ragazzi poi andremo a comprare una cosa sul calcio quindi sarà perfetto ragazzi quindi abbiamo raggiunto i 23 iscritti come avete visto ho eliminato i 3 video delle 8 cioè quello che vi dico cosa porterò nel canale che lo devo rifare in shorts poi ho eliminato quello dell'RD03 della macchinetta shorts e video e quindi ora ci sono 18 video nel canale quindi questo sarà il 19esimo quindi ragazzi con 18 video vabbè con 19 video abbiamo fatto 23 iscritti abbiamo più iscritti che più video fatti allora è una cosa buona e quasi mi sa no tutti quelli che abbiamo il canale ci hanno più iscritti che video infatti 40 iscritti 4 players era niente per iscrivere se mi siete iscritti 40 iscritti quello del e 33 video quindi quello di gruppo 40 iscritti e 33 video poi se non sbaglio poi se non sbaglio io penso l'ho lo 7, 12 11 no 14 iscritti e 4 video perché gli sono cancellati un po' scusate e Gjoks 14 video no 14 iscritti e 16 video vabbè questo ci sono di meno iscritti però è di una distanza vabbè di 2 è pochissimo cioè è come se avesse la come se avesse più iscritti quindi e e poi a Davix andatelo a seguire appena ha aperto il canale quello vecchio da 390 iscritti non ce l'ha più non l'ha potuto riaprire e ragazzi perché non lo ritrovava e poi ragazzi e la cosa ah oddio 6 iscritti e 5 video quindi anche lui di più allora ragazzi sto tutto insalinato perché sono appena andato al mare mi sono lavato un pochetto ma non mi sono fatto la doccia quindi sono ancora tutto insalato anche perché alle 3 andiamo vado al mare alle 3 sto al mare io ragazzi allo sciale solare un ombrellone 109 ragazzi mi dico proprio tutto e ragazzi ho visto ho visto le visualizzazioni da vale con sammart otto redone ovviamente non sono qua tante quante quelle con i shorts però sono comunque un bel po' per dei video che tra un po' arriveranno anche a 40 visualizzazioni magari ora siamo a 11 visualizzazioni a più alta o 13 quindi diciamo che non è male poi ragazzi quindi siamo per arrivare ai 25 iscritti nell'altro canale 4 player serratini siamo per arrivare a 50 iscritti e lì potremmo fare anche qualche speciale molto interessante poi devo dire anche una cosa agli altri membri del canale ragazzi ma questo non sarà per i 50 iscritti quello che dirò magari più in avanti ragazzi volevo dirvi io vi ho detto per ora quello che volevo dirvi il progetto ancora dello speciale 25 iscritti non ve lo dico penso però ragazzi penso una cosa mi sa che oltre a clash of clans porteremo un altro gioco sneaker art cioè un gioco di scarpe che tu personalizzi le scarpe ma questo non so quando portarlo perché è carino anche cross m hall che è un altro gioco di basket che scegli tra loro i cambi le squadre ti chiede gli indovinelli ma questo non penso che lo porterò ragazzi poi ragazzi ho già iniziato dove porto i video no sul telefono però di mia nonna si l'ha iniziato ragazzi quindi però ora me lo scarico qua scarico anche il video per fare anche l'app oddio il video scarico anche l'app per registrare quello che faccio lo schermo quindi come ad screen recorder sul tablet che facevo per tenuti su fifa poi ragazzi per chi segue sia i 4 player ceralini sia vale sia il mio canale quindi sia il canale di gruppo ragazzi scusate non sto portando più contenuti su i 4 player ceralini perché mi sto concentrando su questo che ormai è ovvio perché ragazzi stiamo andando veramente benissimo con questo canale abbiamo già 18 video sì sono un attimo pensando 19 con questo quindi ragazzi e mi sto dedicando un po' di più a questo è diventato un po' che non faccio video una settimana circa quindi ragazzi abbiamo fatto un po' di visualizzazioni con questo canale stiamo tipo stiamo a 2100 visualizzazioni ma di preciso 2080 2100 circa visualizzazioni con tutti i shorts e i video quindi ragazzi stiamo andando benissimo 2100 visualizzazioni e abbiamo fatto le 2000 quindi i 2k e se tutti questi fossero iscritti che poi non avranno visti 1000 no 2000 persone avranno visti e quelle 100 l'avranno rivisto un'altra volta o 2050 non so se no avremo un botto di iscritti ragazzi quindi che vi stavo dicendo volevo dire questo io dico sempre che volevo dire questo e niente dico sempre ma non sto facendo ragazzi più video di sotto come vi ho già ripetuto nel terzo episodio andate a vedere tutti andate a vedere ragazzi se volete l'ashtaguno vabbè stavo a dire il primo episodio il secondo il terzo il quarto il quinto che è questo se volete vederli tutti ma durano un po' cioè per chi è interessato a questo canale volete pure vederlo siamo già 9 minuti ammazza ragazzi fra un po' chiudiamo perché non ho tanto da dirvi e ora penso che creerò una playlist sulla valigolziamo al tortoreto ma penso penso poi il messaggio in community ragazzi ancora non abbiamo raggiunto il quinto voto che tanto andrà in pareggio sicuro quindi raggiungeremo il sesto non vi preoccupate che è riaperso quindi non sperate sì ragazzi che è riaperso e ragazzi ora abbiamo nuove nuove playlist nuove nuove canzoni a mettere tra cui i ceppili soldi puliti che l'ha messa anche Davide bellissima come canzone vetri neri poi soldi puliti la metteremo più avanti vetri neri che l'ho appena messa nell'ultimo video hashtag 4 vale possiamo andare a vedere quello short e anche il video completo magari come vi ripeto un'altra volta che è appena uscito da sta quarto quindi è bello il nuovo bello fresco e poi mi hanno raggiunto i 10 minuti mi sono scordato quello che vi volevo dire ragazzi scusate non mi sono scordato quello che ti volevo dire niente no ragazzi non l'ho ascoltato vabbè noi ci vediamo alla prossima un po' un finale strano mi sono scordato quello che ti volevo dire vabbè ragazzi comunque stiamo per caricare nuovi video ci so per caricare molti altri video penso che quell'altro ancora che vi ho detto un po' strano che ho detto nel quarto episodio mi sa quello che non c'entra niente su questo canale poi legherò sui 4 player serani appena ritornano a questa vacanza ragazzi noi ci vediamo alla prossima bella ciao